Il rosmarino è una pianta aromatica gradita da molti per il suo sapore delicato. Per coltivarlo occorrono poche accortezze, per cui cominciamo subito. Una volta acquistata la piantina, per prima cosa estraiamola dal vaso. Poi, con le mani, sgredoliamo un po' il fondo verso l'esterno, per permettere una migliore radicazione nel nuovo terreno. A questo punto stendiamo un primo strato di argilla che favorisce il sistema di drenaggio e un secondo strato di terriccio. Grazie a tutti. Per prima cosa tiriamo via due rametti, della lunghezza tra i 15 e i 20 cm e lasciamo una parte viva alla base per permetterle di creare nuovi radici. Poi procediamo togliendo tutte le foglioline, lasciandone solo qualcuna in cima, perché se ne lasciamo troppe la pianta andrà a seccarsi. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. Grazie a tutti.